La Cremona è una città straordinaria di ingegno, di arte, di bellezza, di cultura, di integrazione, però c'è un limite, non si conquistano diritti insultando, offendendo, profanando, quindi spero che tutti condannino quella schifezza, quella porcheria, perché un conto è rispettare cosa che è giusto fare assolutamente, il modo di vivere, di essere, di ragionare, di lavorare e di amare. Però giù dai mani, da Maria, dalla Madonna, dai simboli della nostra storia, della nostra religione per chi crede e della nostra cultura. Viva Cremona, viva la Cremona per bene, tollerante ma sul serio.